Il giradischi retro Trevi TT1040BT è un sistema stereo per riprodurre dischi in vinile da 33 e 45 giri. Dall'accattivante design anni 60, ma con funzionalità moderne come la connessione senza fili Bluetooth e l'ingresso USB per ascoltare musica in MP3 dalle tue chiavette. Il suono caldo e pieno dei tuoi vecchi vinili verrà riprodotto negli altoparlanti integrati. Con il TT1040BT potrai ascoltare non solo vinili, ma anche file in MP3 direttamente da supporti USB. Il giradischi di Trevi diventerà parte integrante del soggiorno o dello studio, donando uno speciale tocco vintage al tuo ambiente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS